Salve, sono Mauro Cedda, sono il presidente di Ambulantando, la confederazione sindacale sarda che siamo scesi in piazza perché ormai noi siamo a 14 mesi che non lavoriamo, siamo ambulanti che fanno sagre e fiere, siamo talmente messi male che non ce la facciamo neanche più a pagare le classiche bollette di luce, comprare il pane per i nostri bambini, allora siamo usciti qui in piazza per chiedere una mano d'aiuto alla regione, anche vero è che una mano d'aiuto ce l'hanno già data, però quello che ci hanno dato siamo riusciti a coprire in parte i debiti che abbiamo accumulato in questi mesi, oltre al problema delle salve delle fiere c'è anche il problema dei mercatini, mercati rionali che fanno settimanalmente, sono stati chiusi, sinceramente non vedo il motivo per il quale li hanno chiusi visto che sono dei mercati che si svolgono all'aperto e all'aperto hanno capito che i contagi si prendono meno rispetto al chiuso, tipo i market, i centri commercianti. Allora visto e considerato che noi non abbiamo più la possibilità di lavorare, abbiamo indietro questa manifestazione per farci sentire, perché noi stiamo diventando i nuovi invisibili. In tutte le testate giornalistiche, i telegiornali parlano di bar, ristoranti, piscine, parrucchieri. Oddio, anche loro hanno il nostro problema, ma mai una volta, dico una volta che parlano degli ambulanti. Ripeto, siamo fermi da 14 mesi e sono tanti, 14 mesi senza lavorare, ci sta mettendo a dura prova, non ce la facciamo più. Allora abbiamo deciso di arrivare a chiedere una mano d'aiuto qui in Regione. Niente, speriamo che riusciamo a risolvere il nostro problema. Oggi purtroppo il Presidente del Consiglio lo ci ha potuto ricevere, ci ha fissato l'appuntamento a mercoledì alle 13. Noi mercoledì saremo di nuovo tutti qua per far sentire la nostra voce, sperando che questa volta la sentano. Grazie.